penso calciomercato anche perché su Napoli-Roma ve l'ho detto il mio pensiero rimane la buona prestazione, un punto di partenza su cui lavorare, una Roma che ci ha comunque reso orgogliosi, ha tenuto testa al Napoli, una partita che poteva benissimo pareggiare e poi per un po' di casualità l'abbiamo persa, però guardiamo oltre, mercoledì c'è la Coppa Italia, partita importantissima da dentro fuori non dobbiamo sottovalutare la Gretomonese perché avete visto che fino ha fatto proprio il Napoli in Coppa Italia, però la Roma ce la deve fare. Allora ragazzi per quanto riguarda il mercato oggi arriva Llorente, Vigna, Val Bormut, Llorente vediamolo, vediamolo qua mi sembra un giocatore che può fare il centrale della difesa a tre, perciò il sostituto di Smalling, ha un buon piede, però mi sembra un po' lento, assomiglia come Movense secondo me a Rugani, oggi è atterrato a Fiumicino, speriamo bene e forza ragazzo, non esaltiamo, non lo esaltiamo troppo ma neanche lo dobbiamo bosciare prima di vederlo e è un nuovo giocatore a Roma, perciò daia Llorente. Per quanto riguarda la situazione in Zagnolo ragazzi è ingarbugliata, c'è stato uno strappo incredibile, credo che la famiglia l'entourage stia avvelenata con la Roma, la Roma è avvelenata col ragazzo e oggi vi dico, vi confermo che l'Ipsia ha avuto dei contatti con la Roma per Zagnolo, però stiamo sempre là, Zagnolo e l'Ipsia lo vuole in prezzo diritto di scatto e la Roma vuole l'obbligo. Lui si è rifugiato alla Spezia dopo i fatti di ieri sera, anche se a me due o tre giorni fa già mi dicevano questa cosa qui, che lui comunque voleva tornare proprio alla Spezia fino a non tornare più a Roma. Questa notizia confermata e degli ultimi minuti mi dicono di una squadra inglese che io so il nome ma non ve posso dire perché mi ha pregato sta persona di non tirare fuori il nome di questa squadra inglese. Poi vi faccio sta domanda, ma ci sono possibilità da qui alla fine del mercato che Zagnolo vada via? Mi ha detto in questo istante è più no che sì, è difficile, in questo istante se devo fare una previsione ti dico che rimane a Roma, però mai dire mai nel calciomercato ci può stare, però i tempi si stanno accorciando per fare una trattativa come quella di Zagnolo, anche perché la Roma è bella chiusa nel fare solo il prestito con obbligo di riscatto, obbligo neanche condizionato senza il diritto di riscatto. Qualora la Roma... Grazie Freikin, finalmente una proprietà con le palle cazzo. Grazie di cento Ivano, io non mi voglio più esprimere su sta cosa qua perché si è scaturito un casino che non finisce più, qui si sta a parlare di calcio e da calcio che deve essere una cosa leggera è diventata veramente una cosa pesante questa di Zagnolo, perciò non me ne frega niente, Zagnolo tanto non vestirà più la maglia della Roma e stiamo bene così. Per quanto riguarda il sostituto, se va via Zagnolo un sostituto, io spero che la Roma non si faccia trovare in preparata, almeno spero, però i tempi sono ristretti, vendi Zagnolo, fai un sostituto, i tempi cominciano ad essere stretti, adesso uscirà la notizia di PSG, anche perché Zia ce n'ha che può aspettare l'ultima ora di calciomercato, è evidente. vediamo se la notte porta consiglio, se quello che può succedere, al mercato aperto mai dire mai tutto può succedere, ma è veramente difficile che ormai Zagnolo possa lasciare la Roma nel mercato di gennaio. Per quanto riguarda Gasdorp, a me mi dicono che fino all'ultimo minuto proveranno a vendere Gasdorp, però ragazzi c'è un problema anche qua perché la Roma lo vorrebbe comunque vendere a titolo definitivo e invece il giocatore lo chiedono in prestito. Ragazzi il calciomercato della Roma e per tutte le squadre si sta per concludere, un calcio di mercato gennaio poverissimo non solo per la Roma ma per tutte, non ci sono soldi e vince chi ha più idee in questi calciomercati qui. La Roma fa un colpo diciamo di convenienza, un prestito con diritto del scatto, un giocatore che comunque era un pochino finito ai margini dell'Its, aveva giocato poco quest'anno e riesce a prendere certe condizioni. Murigno credo che lo conosce bene, lo ha allenato anche il Real Madrid e speriamo bene. Di certo domani faremo un commento finale a chiusura del calciomercato per giudicare anche un pochino il lavoro dipinto. La cosa che dispiace più di tutti è che nel giro di due mesi ci sono state due cose molto sgradevoli con due giocatori da Roma che sicuramente la colpa è sia De Gasdop e De Zagnolo mi sembra evidente però nella gestione dei due giocatori non lo so perché qui dopo ragazzi mettere alla conia di tutti due calciatori non so quanto può far bene alla società in ottica anche acquisti di futuri, gente che vuole venire a Roma, procuratori che vogliono far venire i giocatori non lo so. Questa è una cosa che secondo me va un attimino gestita purtroppo gli errori c'è stanno però la situazione è un po' degenerata. Oggi stavo leggendo l'intervista di Solbaken. Solbaken ragazzi dice una cosa, ora ve la leggo, che fa pensare. ragazzi i calciatori sono troppi schielli, sono giovani, si mettono paura. Solbaken dice vorrei giocare ma devo avere pazienza a lavorare duro. I tifosi tutto estremo, molto più di molto più di quanto pensavo. Ragazzi queste cose qui fra cacciatori, procuratori girano. Io spero veramente che non accadano più queste cose qui. I frecchi sicuramente si sono fatti conti loro. Hanno fatto bene a mettere Zagnolo fuori rosa fino alla fine della stagione. Però ragazzi noi tifosi secondo me in questo caso dobbiamo rimanere un po' più calmi. Si possono fare proteste civili ma mai andare sul personale, prendersela con le mamme e augurare la morte, augurare l'imbalidità. Stiamo a parlare di calcio. possiamo dire che Zagnolo deve andare via da Roma, tutte queste cose qui, ma poi dobbiamo fermarci lì anche perché sennò mettiamo veramente in difficoltà, in difficoltà proprio la nostra squadra che vogliamo bene perché in ottica futura è un... è un... in ottica futura questo può essere un boomerang questo che è successo sia a Cardop che a Zagnolo. Monologo terminato. Allora, allora...